Il mio nome è Daniel Telli, sono crescita in Trini, qui è in Vici, in confine linguistica, in corto di un flambo, in casa ho iniziato a Romanzo Trini, in scuola ho imprimo Sursilvano, e per questo video ho discorso anche Sursilvano, forse che ho inizialmente in Romanzo Trini, sono crescita in una famiglia di Purs, faccio le scuole in Trini, sono studiato audio e turisti nordistica e inglese, e faccio l'anno scorso circa nel 1997, e faccio l'anno scorso Romanzo, scuola linguistica, scuola coloratura linguistica. Avevo anche raccontato un po' della lavuccia, faccio l'anno scorso, sono raccontati molte cose, in cui è unico, legge il bia, e ammile il bia, e bucemente un po' la pelle. Per le romanzo, lavurli ho scongetto da circa 15 giorni, dove ha lavorato da diverse incombensi, ma anche la partizione linguistica. Voi c'è via la traduzione, vieni lectorati, informi del linguaggio, vieni le riferazioni, vieni le risposte ad e-mai, In questo caso, noi facciamo la laurea redaktionale di Pledari Groni. Abbiamo provato a sviluppare come vivere in Pledari Groni, come Plattaforma Linguistica, e noi facciamo un po' di livello di vocabulario idiomatico per ogni idioma, analogo al vocabulario di romanzo. Un altro lavoro è una plattaforma per altri artisti, che facciamo un progetto culturali progetti, con il nostro know-how, con i nostri contatti. Abbiamo una partecipazione con la scuola, con tutti gli aspetti che fare con la scuola, con la politica della scuola, per la scuola di romanzo. In questo caso, noi facciamo un progetto di regioni, che sono molto importanti, anche nelle nostre collaborazioni regionali, che si tratta, che prende l'imposte, che si tratta, che si tratta, che si tratta, anche nelle regioni di realizzare anche progetti, e quindi, anche in questo caso, che si tratta, 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 e allora, grazie per la visione, e grazie per la attenzione, e spero che... No, è, sorry, sorry. It's ok, no, grazie per la attenzione, e spero che i punti di risp�are che i tuoi, e che i tuoi, e che i tuoi, e che i tuoi, se ciò di quella, curta intervista. Grazie. Anzi. Sì.